ciao ragazzi bentornati sul mio canale io sono il boss del freestyle e oggi andrò a calcolare il mio overall quindi andrò a vedere quanto è completo il boss sul campo da calcio ma non lo farò da solo perché non è che il boss si auto valuta quindi ho bisogno di un personaggio che andrà a calcolare nei minimi dettagli tutti i valori del boss signore e signori ho il piacere e l'onore di avere qui sul campo con me il signor sick wolf fammelo bene john borno eccolo qua finalmente ragazzo che io sono un super fan di sick wolf quindi ogni volta che una partita finisce vado sul suo canale a vedere il suo sfogo quindi oggi che cosa andremo a fare tu non lo sai c'è lo sai ma non lo sai io mi sono scritto ben sei sfide una per ogni valore tecnico che andremo a valutare il primo è la velocità ok il secondo è il tipo poi il passaggio poi il dribbling poi la difesa e infine il fisico come deve essere fisico beh diciamo dopo cinque sfide secondo me andrò tipo sui gomiti però sto una bomba il boss sta in formissima vabbè quindi oggi sostanzialmente partiremo sfida per sfida e poi ti darò una valutazione in base ad ogni sfida che andrai a fare alla fine della sfida ti dirò quanto avrai di carta overall ok ragazzi prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un bel like attiva della campanellina così non vi perdete più nessun video del boss e scrivetemi nei commenti secondo voi quanto ho di overall dimmi tu se non sembro frigatti si manca lo stemmino qui del guinness world record c'è una cosa ragazzi allora se arrivano si arrivano più di 500 commenti quindi anche doppi non ce ne frega niente con l'overall scritto ti faccio fare una sfida e c'entra frigatti non dico niente questo non dico niente mai casato non dico niente quindi raga mi raccomando 500 commenti forza io direi di iniziare andiamo 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 allora la prima prova è di velocità e tu dovrai paragonarti niente che di meno claudio pellegrino allora perfetto claudio partirà da quel connetto lì e dovrà fare a tutta velocità fino a qui lo cronometreremo e lui sarà tipo il tuo mezzo punto diciamo ok però non incontrerà nella tua valutazione dovrai superare il suo tempo in base a quanto lo supererai prenderai un voto e quindi un punto overall ok se andrai sotto farei schifo ok claudio è posizionato dovrà arrivare qua io prenderò il tempo quindi 3 2 1 via 4 secondi e 60 questo è il tempo che devi battere oh ma questo è matto oh eh frate quelli tuoi 10 anni di differenza che li vanno sentiti ragazzi non c'è più rispetto su questa youtube italia non c'è più rispetto 4 e 60 4 e 60 pensi di poterlo battere troppo easy adesso tocca al boss 3 2 1 via abbiamo un punteggio ma dov'è andato ma dov'è andato oh io ho un'età eh ma lei doveva fare 30 metri me ne ha fatti 180 eh quanto pensi di aver fatto considerando che comunque anche claudio è molto veloce nello stretto poco meglio di lui poco però ok lui ha fatto 4 e 60 ok 4 e 40 allora lo faccio vedere in camera 4 e 02 attenzione ragazzi attenzione ma che sono il boss degli scatti adesso però devo calcolare io si se la valutazione di claudio era da 70 80 si era da 12 e se no hai fatto 14 ma claudio è velocissimo claudio è lascia lavorare il computer che sarei io va bene mi vado a mettere in punizione allora sic ci siamo spostati davanti alla porta quindi immagino cioè me ne vado per un'idea che sicuramente non sarà una challenge di passaggi giusto e invece proprio no sono i tiri sono i tiri sono i tiri ok io ti dico che il computer ha calcolato il tuo overall per quanto riguarda la velocità ok ma lo saprai a fine video perché sennò poi magari ti gasi troppo ti butti giù quindi lo diremo dopo tutto quanto quindi ragazzi mi raccomando rimanete fino a fine video per scoprire l'overall del boss detto questo che cosa succederà adesso allora sui tiri diciamo che sei abbastanza ferrato lo sappiamo abbiamo visto la 100 tiri che hai rifatto qui sul canale tra l'altro ve la lasciamo qui in alto nelle schede quindi mi raccomando recuperatevela oggi andremo a fare una cosa non simile però un po simile perché oggi che cosa abbiamo portato noi lì molto pesante non vedo niente la paretina che bello e oggi la paretina ci servirà ok però prima della paretina è facile segnare se non abbiamo un portiere ci serve un portiere vuoi presentare il portiere perché abbiamo anche il portiere signore e signore non abbiamo un portiere abbiamo il portiere il signor dc system eccolo è qua ormai ragazzi siamo tipo come holly e benj allora molto semplicemente si dovrai calciare in porta per dieci volte però non dovrai calciare semplicemente in porta bensì dovrai utilizzare la paretina ora sarà a tua descrizione cioè tu potrai anche tipo giocare con la paretina e calciare semplice fare gol e ti darò un punteggio oppure provare la grande giocata ti darò un altro punteggio oppure provare la grande giocata a far schifo e prendere un punteggio più basso o fare tutti i gol molto semplici però non sorprendermi ti darò un 60 sei pronto si sono pronto dici sei pronto sto pronto a me basta non mi fare il cucchiaio sennò ti tiro la paretina che comunque c'è una bella aria qui sul campo del boss e mi sento molto tranquillo e iniziamo allora come vedete sta gonfiando i palloni in questo momento farà appena due serie da 5 cioè dopo aver fatto 5 di le viene qua fa una cernita dice due stronzate e poi fa la seconda serie vediamo che voto gli diamo guarda adesso sta confessa sgonfiando i palloni per ingannare il portiere quante ne sa il boss regane sono una più del diavolo è che pronto per il primo tiro fra cinque tiri con la paretina che me la ripassa la soterra e poi cinque tiri al volo sono dello spettacolo stamattina eccolo subito immediatamente guarda quanto figo guarda quanto è senza parole questa per un po c'avevo sperato non facciamo sperato perché pensavo scendesse prima invece calcola che questa per fagò dovevano sparati ci dà dal settore ospiti i poco fuori ma di poco mi causò c'è un portiere ha capito ma la para cioè ultimo tiro raso terra io dico una cosa ok calcolare l'overall porca miseria codici system in porta ma come si fa quindi dobbiamo alzare l'asticella se mettiamo un tronco in porta è normale che prendi 100 allora la prima l'hai fatta si aveva fatto un gol ma tanto a noi non interessa a nicola non interessa il modo in cui tiri il modo in cui il portiere di pari quindi poi darò una valutazione finale questo mi è piaciuto quindi raga ora vedrete cinque tiri pazzi dovevo sorprendere sicuramente vediamo vediamo vado tiro numero uno tiro orribile però la parata c'è esatto dopo contro l'overall anche di dici davvero attenzione 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 calcio l'ha fatto oh ti prendo in considerazione molto bello molto molto bello devo ammettere molto 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 bello ora vediamo l'arte 3 però io lo servo esatto palleggia attenzione questo è bellissimo questo è bellissimo è incredibile raga perché è andata proprio precisamente sotto l'incrocio dei pali o cioè io la chiuderei qua no te ne mancano due però questo è bellissimo devo farli per forza devi farli assolutamente sì per alzare il tuo voto cioè chiudere qua va bene vado cazzo bello questo e lì questa è bellissima il sond'entrata quarto tiro attenzione si la viene lì attenzione la viene lì attenzione ancora in quella parte lì di porta ed è il terzo gol di fila io non so che dire raga quinto tiro attenzione sì la viene lì attenzione madonna mia abbiamo perso un pallone abbiamo perso un pallone quindi speriamo di recuperarlo prima di tutto l'ho perso costile secondo se non riusciamo a recuperarlo raga mi raccomando iscrivetevi al canale condividete fate tutto quello che serve per farci monetizzare così compriamo un altro pallone sembra corretto esatto hai mai giocato a basket tu avrai come nel basket a campana ci sono appunto cinque punti in cui devi tirare quindi vi metteremo una palla lì al lato una palla qui al centro una palla centrale una palla lì una palla lì al centrocampo ci sarà una porticina questa è per testare la tua precisione nei passaggi ok ragazzi abbiamo posizionato tutti i palloni vi faccio vedere questo è il primo pallone eccolo là poi uno un po più centrato uno assolutamente centrato e poi gli altri due a specchio deve fare centro in quella porticina lì chiaramente valuteremo sia quando farà centro che quanto ci andrà vicino se tira e rimessa laterale è un conto che ci va molto vicino è un altro conto e da lì daremo l'overall andiamo a vedere il primo tiro del boss raga ho scelto di partire da quest'altra parte perché mi diciamo mi gioco i palloni più facili verso la fine quindi partiamo primo tiro parte il tiro vediamo dove va vediamo dove va poteva andare meglio poteva andare meglio però comunque dai manco malissimo dai l'angolo era difficile o era difficile era difficile secondo tiro speravo nel giro invece non ha girato abbastanza se non riesce a fare nemmeno quello al centro abbiamo capito che il playmaker non lo può fare il boss però devo dire che erano abbastanza precisi diciamo che se i lanci del genere li fai a cruz è bene se li fai a me un po' meno bene ecco il terzo e questo ragazzi ci siamo il palo del boss dai c'è anche un po' di sfortuna però eh quarto tiro del boss alla ricerca del primo centro e sfiora la porticina sfiora la porticina ragazzi zero su quattro che schifo attenzione il quinto tiro eccolo e lo fa ha fatto il quinto tiro il più difficile troppo easy per il boss ok allora abbiamo concluso questa prova adesso c'è la quarta prova che è quella del dribbling ora che cosa andremo a fare tu avrai solo tre tentativi affronterai uno contro uno Claudio Pellegrino e poi dovrai calciare in porta ok ora non è che ogni volta che farei punto cioè farei gol punto io ti darò un punteggio no io ti darò un punteggio in base a quante volte lo supererai a come calciare in porta e se farei gol è chiaro che se lo punti lo superi e fai gol ti do un punto molto più alto se no molto più basso non è che se li sbagli tutti e tre prendi zero e se li fai tutti e tre prendi 100 quindi come le altre prove non conta fare gol ma conta diciamo in generale come mi comporto aiuto la tua prova esattamente esattamente partiamo vai via tutto pronto per il primo il boss è pronto Claudio è pronto 3 2 1 via è partito boss attenzione punta Claudio nell'uno contro uno lo punta si allarga calcia è la parata centrale di DC System allora allora il primo dribbling più o meno c'è stato dai diciamo però che la parata c'è stata quindi il gol non l'hai fatto però intanto è riandato in porta sì perché questo qui visto che giochiamo insieme nella Roma creators lo conosco so che è molto rapido e molto veloce è un bel cagnaccio quindi cerco di affrontarlo in velocità per cercare di non dargli tempo di intervenire sul pallone però ha rotto un po' il c***o ecco via partito il boss eccolo di nuovo contro Claudio boss contro Claudio lo punta oddio vai attenzione Claudio Pellegrino insuperabile terza possibilità per boss nonché ultima 1 2 3 partito boss è partito la terza sfida esce Claudio lo punta attenzione va di finta contro finta ancora il milano di DC però ha calciato in porta e soprattutto con il tacco e soprattutto con il tacco quindi ha provato anche a farlo bello ho provato a farlo bello stavolta allora bravi tutti e due adesso però ci mi diverto io a guardarvi ok perché adesso fai la prova di difesa e sai come funziona la prova di difesa? sai come funziona la prova di difesa? al contrario perché Claudio attacca bella questa bella questa raga andate tranquilli perché non ti entro sul ginocchio quindi non ti preoccupare questa ti vuoi prendere la vendetta di prima che bello prima sfida può partire Claudio Pellegrino al mio 3 1 2 3 attacco verso il boss eccolo esce il boss attenzione 1 contro 1 mamma mia tira Claudio alta si dispera Claudio Pellegrino dalla sua dalla sua Claudio è riuscito a superare a calciare in porta dalla sua però boss devo dire che è stato bravo a portare sull'esterno Claudio a non farlo calciare da posizione centrale ma posso dire una cosa? sì ma con queste non potremmo fare come prime sfide dopo i tiri gli scatti i passaggi 3 2 1 start guarda come sale mamma mia mi sembra Pavel Nedved dopo gli hamburger attenzione supera no vabbè questa è un'umiliazione in piena regola si leva pure la maglia no non se la leva perché ha un fisico improponibile poi è morto a terra allora gli stavo per prendere il pallone poi ho visto che a un certo punto era inciampato stava per cadere poi si è rialzato scavino credibile mamma mi pari veramente boss al momento male male in difesa al momento Claudio 1 e boss 0 devi riprenderti perché sennò ti do 8 si ma moglie meno 3 2 1 parte Claudio Pellegrino parte Claudio Pellegrino attenzione lo punta attenzione eccolo lì 1 contro 1 fa sull'esterno calcia la parata e la palla che va fuori di poco stavolta regà non sono intervenuto sul pallone però ho cercato di portarlo più sull'esterno possibile andava questo che ha fatto fan goal ma tanto bene allora manca solo una sfida e questo sarà davvero esilarante e questo ti distruggerà prova fisica ok durerà pochissimo veramente pochissimo circa 10-15 secondi ok dovrei fare semplicemente 10 squat ok ma con Claudio Pellegrino sulle spalle ok ci sei? bello allora io dico una cosa io ho iniziato nel 2006 a fare freestyle ho collaborato con tantissime agenzie molto importanti sia d'Italia che d'Europa mi sono esibito in tantissimi stati di squadre di serie A ho fatto una scena nel film La Grande Bellezza premi Oscar e oggi 2024 mi ritrovo a fare gli squat con Claudio Pellegrino sulle spalle la mia carriera la mia carriera ha preso una strada proprio strana allora siamo pronti Claudio Pellegrino possa dirti sulle spalle hai mangiato poco questa settimana? ma c'ha niente non c'ha c'ha niente vai a Cava Cecio ah così? si va bene 3 che brutta scena 2 1 via giù 1 vai 2 calcolo tutto io no me ne frega niente 3 4 5 6 6 oddio 7 ho tenuto storto 8 non per morire 9 ti ne manca 1 e 10 cioè pensavo fosse una passeggiata già lo vedevo sofferente a un certo punto però è andata dai abbiamo finito ok ragazzi siamo arrivati alla fine di questo video personalmente mi sono divertito tantissimo tranne nell'ultima challenge però mi sono divertito tantissimo adesso aspettiamo un attimo perché Seekwolf sta calcolando l'overall in base alle mie prestazioni delle sfide allora ho calcolato perfettamente per ogni parametro il tuo overall partiamo dalla sfida di velocità ok hai fatto molto bene perché Claudio aveva fatto abbastanza bene e quindi ho deciso di darti ben 88 buono è stato molto veloce hai messo 4 secondi quindi l'altra sfida quella sicuramente l'ha fatto meglio di tutti ok ti dico è il tiro sul tiro ti ho dato 90 però ti devo dire una cosa che nella prima anzi nella seconda fase ti sei preso tutti i punti a disposizione praticamente nella prima molto meno per quanto riguarda invece la sfida di passaggi ok tu avevi un punteggio in base ad ogni tiro che andavi a fare in totale fatto di passaggio 85 bello bello buono perché comunque non è semplice in una porticina segnare da 40 metri per l'attacco poteva andare un po' meglio se non d'accordo però comunque ti sei stabilizzato su cifra abbastanza buone attacco 80 buono ragazzi va bene va bene adesso arrivano le note dolenti no ma fermiamoci qui ragazzi è stato un piacere il video è andato bene mancano difese e fisico per quanto riguarda la difesa la prima e la terza ti sei comportato abbastanza bene ho deciso di darti 28 e 28 perché due volte su due le portano sull'esterno poi lì è bravura del portiere non è che possiamo sempre poi non c'è nemmeno difensore quindi abbiamo calcolato così questo è il tuo punto di divisa 61 ma andiamo avanti direi andiamo vabbè ragazzi 61 per quanto riguarda il fisico che è l'ultimo dei parametri alla fine della fiera ho deciso di darti 70 ok perché di sei comportato però claudio è tutto storto tutto tutto cioè sembravate veramente terence il che tiene sulle spalle bud spencer che pesa 45 kg bagnato quindi l'overall finale del boss del freestyle è vabbè ci sta ci sta te l'accolli me l'accollo te l'accollo anche perché se posso dirti una cosa questa è la prima volta che facciamo l'overall del boss magari tra un po sei mesi sette mesi con un po di allenamento proviamo a rifarlo e cercherò di batterlo allora facciamo una cosa vai ok se tra sei mesi quindi verso ottobre questo video ha raggiunto i 5 mila mi piace torniamo su questo campo io te la rifaccio con gli stessi parametri e vediamo se farei meglio o peggio di così va benissimo ci sto simo io ti ringrazio tantissimo grazie per avermi fatto da giudice supremo in questa overall raga noi ci vediamo al prossimo video perché è easy per il boss e anche per sickwolf che se ne sta andando soprattutto claudio pellegrino e anche dc system che si è fatto fare lo scavetto per questo non è easy per lui forse no